Continua il trend positivo per le rinnovabili elettriche in Italia. Secondo il report mensile pubblicato da Terna, quest'anno la capacità di energia verde nazionale ha già raggiunto i 769 MW, un valore in crescita del 234% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il merito della quasi totalità di questo incremento va al settore fotovoltaico.